Bruce che dice con i fan, quinta puntata Valletta stia qui, Bruce che dice fermi Bruce che dice saltate, saltate Bruce che dice l'ultimo che a terra perde No, uno è volato giù Bruce che dice saltate e fate un 360 Bruce che dice giratevi dietro di voi Riguardatemi, sono bravi anche oggi eh Saltate Bruce che dice saltate Guardatemi Scardina, ok Ok, ultimi 4 Allora, Bruce che dice guardatemi Bruce che dice fai riguardami Crison, ai 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 Bruce che dice avete 5 secondi per scegliere una piattaforma di lancio Bruce che dice al mio via da ora Voi partirete e sceglierete e vedremo chi vincerà Bruce che dice via Albanix, gg